Detenuti. Come segretario regionale, sottolinea Raffaele Tutto lo Mondo, ritengo doveroso ricordare lo straordinario impegno profuso dagli agenti di polizia penitenziaria per proteggere la salute dei detenuti in piena pandemia. Il sovraffollamento delle strutture è purtroppo un fattore favorente alla diffusione del virus, senza dimenticare che gli agenti stessi sono a contatto con familiari e spesso con figli minori, altro grande veicolo di propagazione virale. Proprio per questo sono state adottate misure e precauzioni eccezionali che a sabato 12 per l'ennesima volta avrebbe dato sfogo alla sua rabbia prima con atti di autolesionismo e poi forando una bomboletta del gas in dotazione con il fornellino per cucinare ed avvicinandovi l'accendino. In questo modo ha acceso la bomboletta creando un lanciafiamme e con questa ha minacciato i poliziotti presenti, mettendo a rischio la sua e le loro vite e soltanto il coraggio e la competenza della polizia penitenziaria hanno evitato che il tutto sfociasse in tragedia. È palese dunque come in queste condizioni, si legge nel comunicato Sinappe, i poliziotti a Biela si sentono continuamente in pericolo, minacciati dalle azioni folli di un detenuto e mal tutelati dal sistema. A questo punto il sindacato sollecita nuovamente la direzione del carcere a voler assumere le determinazioni del caso.